Ragazzi volevo solo informare che scusate per dire prima di tutto che non è un sito lo speciale ma stiamo avendo molti contrattempi e poi dovete dire a su scritto quello con la maglietta blu nella foto lì dovete urlare nei commenti che è un pia e perché non vuole fare la seconda parte della prima puntata della stagione e prima si è cancellato il video dove io stavo facendo l'animazione con voi ve la faccio sentire perché non sta andando ecco allora non diamo pure questa così così e questa verrà caricata oggi prima caricherò questo video e dopo caricherò questa e nulla vi volevo avvicinare solo per questo scusate se per sbaglio ho cancellato il video che durava molto di più ma non ci possiamo fare niente oggi uscirà lo speciale e nulla ciao amici